non sbagliare è ancora Bui la vedete che la buona tu si l'ha detto subito Stefano Matteo Bui autore della doppietta che ha dato la vittoria al Pomponte cosa ci puoi dire è stata una partita molto difficile al primo tempo loro sono andati subito in vantaggio però noi non abbiamo mollato e all'inizio del secondo tempo abbiamo fatto questa doppietta molto importante per la squadra e che dire cerchiamo di continuare così vuoi dedicare a qualcuno la vittoria? dedico questa vittoria sempre ai ragazzi di Geo mi sono sempre a mio fianco a tutta la squadra, al ministero alla mia famiglia grazie, Matteo, ciao bravo Bà 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 bravo Bà